Dalle nostre attività di monitoraggio e di sorveglianza della rete, negli ultimi due anni abbiamo assistito e osserviamo un cambiamento, lo spostamento di un numero sempre maggiore di bambini che approcciano la rete, si divertono, interagiscono con i compagni e con i coetani. Si tratta di una novità introdotta e in qualche modo facilitata dalla pandemia, che però non ha tardato a mostrare i suoi effetti deleteri. Purtroppo un numero crescente di bambini sono oggetto di attenzione da parte di adulti che le adescano e li costringono a fare cose che non sono adatte alla loro età. Per questo, come Polizia Postale, abbiamo scelto di creare immediatamente una guida e uno strumento che potesse aiutare i genitori a svolgere il loro importante ruolo di guida anche su internet. Un bambino che approccia la rete, che magari frequenta la scuola elementare, è un bambino molto curioso, molto entusiasta e pieno di voglia di imparare e di conoscere anche attraverso la rete, ma è contemporaneamente un bambino molto fragile, che può essere facilmente impressionabile e può essere manipolato con grande facilità. I soggetti interessati ad interazioni sessuali su internet con i bambini sono sempre molto aggiornati su quali sono gli interessi e i luoghi dove si trovano i bambini. In questi luoghi virtuali bisogna aumentare la sorveglianza e la guida da parte degli adulti, perché questo è il primo baluardo di protezione dei bambini stessi.